ritirati saremo migliori e renderemo migliori anche gli altri tutti spiegando loro le questioni capitali della vita la virtù il male la morte dio il cosmo andare oltre il pensiero comune porci domande dare un senso alle cose così il saggio diventa cittadino del mondo perché il mondo intero è la nostra patria l'orbe non l'urbe come mai seneca tutta questa saggezza solo da pensionato e non anche da giovane da congedato e non anche da militante in questo ti dimostri un perfetto cittadino di roma altro che del mondo i migliori anni per il pulpito e per il foro quelli inutili per la cella e per la meditazione non una scelta la tua ma una necessità e una resa la copertura del tuo fallimento politico servire nerone preparargli discorsi consigliargli affari occultargli i delitti questo il tuo curriculum servire il potere questa la tua ragione di vita fino a quando ti è convenuto e ti è stato possibile hai adattato il tuo talento alle orecchie del tempo e poi il lusso sfrenato l'usura l'avidità sì sulla bocca di tutti è stato il mio capitale di oltre 300 milioni di sesterzi questo processo contro di me non si chiuderà mai sono stato giudicato un campione di doppiezza so bene di avere avuto due anime avverse la mia vita non si è accordata con le mie parole e la mia tavola non è stata parca come le mie massime io non ti rimprovero la mancanza di coerenza e virtù ma di lucidità e conoscenza filosofia e virtù non vanno insieme non si è morali o immorali ma consapevoli o ignoranti la miseria non è etica ma intellettuale e l'impotenza non è della volontà ma della ragione a me interessa capire non credere non quello che siamo ma quello che possiamo e vogliamo essere questo mi è stato sempre a cuore io cerco la verità e la cerco ostinatamente essa la verità è amica e alleata del futuro perché ha sempre da essere e ognuno dovrà cercarla da solo senza interposta persona non bisogna giurare sulla parola di nessun maestro a me interessa conoscere non per piacere o per scommessa ma per imparare a vivere e a morire prima che ammirare il cielo stellato la filosofia giova a porre rimedio alla vita e a risollevarsi dai fallimenti a prendersi cura di sé ho imparato a mediare a cercare l'armonia tra la volontà e la necessità tra la ragione e la natura a negoziare tra il principe e la libertà tra gli ideali della stoa e la realtà della roma imperiale la coscienza morale mi vietava il servilismo del cortigiano il calcolo mi sconsigliava la frattura dell'oppositore non ho fatto lo spettatore sostando sulla riva ma sono salito a bordo ho accettato la politica la nostra dimensione naturale sì umana perché chi vive separato dalla comunità è o bestia o dio fino a quando mi è stato possibile ho praticato la secessione interiore poi quella delle pareti domestiche patire sopportare questo prima che dalla vita ho appreso dalla scuola dell'inflessibile educazione stoica la vita ti è venuta a cercare e ti ha presentato il conto solo alla fine hai capito che la politica è un teatro delle illusioni un inganno la fatica di sisifo sfinirsi per un potere che non si riesce mai a raggiungere e che non esiste nemmeno sai seneca qual è la molla della politica la morte la paura della morte l'altro cancro oltre alla religione questo bisogna avere la lucidità prima ancora che il coraggio di riconoscere la vidità e la cieca brama del potere le due lesioni letali non sono cause ma effetti della cattiva coscienza e dell'ignoranza che scatena la paura della morte noi cerchiamo ricchezze onori e potere per fronteggiare e rimuovere la morte per trovare una via di fuga e di sopravvivenza nell'aldiquà soldi e potere sono figli della paura della morte e di sopravvivenza nell'aldiquà soldi e di sopravvivenza nell'ambi